Un saluto dalla redazione del Gireasi in studio Marco Paganelli. Apriamo con gli esteri. Il Pentagono ha spedito la bozza della nuova strategia atomica alla Casa Bianca. Secondo quanto ha riportato il New York Times, il documento prevede l'uso di armi non convenzionali in risposta ad attacchi devastanti non nucleari e a quelli informatici da parte di un paese straniero. Il testo, se fosse approvato da Donald Trump, porterebbe a un profondo cambiamento nella strategia di Washington rispetto all'uso degli ordini atomici, visto che fino ad ora è consentito il loro utilizzo solo in caso di risposta ad un'azione ostile di pari grado o con agenti batteriologici. Gli stati che, secondo gli esperti, potrebbero minacciare la sicurezza degli Stati Uniti sono in particolare la Russia, la Cina, l'Iran e la Corea del Nord. E rimaniamo in Asia. Mentre gli atleti della Corea del Nord sfileranno insieme a quelli del Sud alle Olimpiadi che si svolgeranno a breve a Pyeongchang, la tensione con Washington rimane molto alta. Il segretario di Stato americano Tillerson ha detto ieri che la Casa Bianca è disponibile al dialogo con Kim Jong-un, ma il suo paese deve impegnarsi ad abbandonare il programma nucleare, altrimenti non è possibile escludere un intervento militare. Continuano intanto i preparativi in vista di quest'ultimo. Il Pentagono ha inviato infatti nuovi bombardieri nella sua base militare sull'isola di Guam. Veniamo in Italia, sì dell'Aula della Camera alla prosecuzione per il 2018 delle missioni internazionali, tra cui quella nel Niger. L'Assemblea di Montecitorio ha approvato la risoluzione di maggioranza in tal senso che ha incassato anche il voto a favore di Forza Italia. La Lega si invece astenuta contro le premesse di parti della risoluzione relative a singole missioni, hanno votato i deputati del Movimento 5 Stelle e di Liberi e Uguali. Nonostante il via libera europeo alla commercializzazione di cibi contenenti insetti e i loro derivati, nessuna specie ha ottenuto fino ad oggi l'autorizzazione preventiva prevista a livello europeo, ma solo un lascia passare che implica, tra l'altro, l'accertamento per la sicurezza per le quantità di assunzione proposte. Lo ha precisato il Ministero della Salute. E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi. Grazie.